buongiorno da leonello rovati benvenuti sul mio canale di youtube siamo sempre su keyshot perché un mio iscritto che si chiama giuseppe lo ringrazio per le richieste che mi ha fatto mi ha chiesto come fare a inserire all'interno di keyshot degli oggetti o delle tipo delle piante piuttosto che delle automobili o delle persone eccetera perché lui lavora nell'edilizia quindi la necessità di fare dei rendering con degli oggetti appunto da mettere vicino delle case eccetera come potrebbe fare potrebbe tranquillamente andare nel nostro sito di rhino series 3d che è questo poi lascerò comunque il link in descrizione che è l'erovati 3.7.com raiosieros 3d trattino pro e che quindi il sito ufficiale del nostro corso easy rhino reno series 3d appunto e cliccare su risorse risorse esterne clicca su risorse esterne entrerà all'interno appunto delle risorse esterne e qui ha la possibilità di andare ad avere diciamo tantissime risorse esterne per quanto riguarda appunto modelli 3d abbiamo materiali abbiamo un po di tutto e il sito che può interessare a lui è questo qua che è 3d export quindi clicca su 3d export entra all'interno del sito 3d export come parola chiave facciamo car quindi automobile ok e qui abbiamo come filtro come filtro possiamo mettere vediamo solo prodotti gratuiti ok eccoli qua e quindi qui vedrà tutti i prodotti gratuiti che può andare a scaricare se vuole invece scaricarli a pagamento non ci sono problemi e fa scaricare diciamo quello che gli può interessare facciamo esempio che mi interessa questa clicco sopra il modello mi si aprirà questa questa finestra e qui dove c'è download gratis vado a scegliere il tipo di formato che mi può interessare di più il nel nostro caso possiamo andare a scaricare tranquillamente anche un obj se non sbaglio quindi clicco su obj e devo ovviamente fare un accesso creare un account ok in questo caso io entro con facebook dato che ho già aperto facebook no non è configurata perfetto accedo con google perfetto ok a questo punto posso fare il mio download quindi abbiamo detto obj sarà scaricato come punto zip e poi andiamo a scompattarlo poi ci vediamo ci vediamo dopo ok una volta scompattato abbiamo i nostri due file in questo caso mtl quindi materiali obj io penso che l'obj potrebbe andare bene lo prendiamo e lo trasciniamo direttamente all'interno dell'area di lavoro di keyshot e rilasciamo lui ci chiederà l'orientamento eccetera diciamo in porta se l'importato in questo caso però senza texture quindi quindi non va bene ma se importiamo il materiale probabilmente riusciamo importarlo in modo corretto ok allora questo lo cancelliamo ok una volta scaricato noi possiamo tranquillamente e importare anche il formato bj e poi dovremmo andare a segnali noi con i materiali che abbiamo qui dei vari materiali che ci possono piacere per quanto riguarda l'automobile ok mentre per le altre cose andiamo sempre sul nostro sito qui di 3d export e clicchiamo su people quindi people diamo l'invio ok vediamo i tipi di modelli che abbiamo vedete in questo caso qui oggetti relazionati possiamo avere anche questi però quelli diciamo gratuiti allora modelli 3d in questo caso abbiamo questi però ne abbiamo di diversi tipi vediamo se non sono tutti da guerra o cosa ok comunque se qui non riusciamo a trovare i modelli che ci possono interessare possiamo andare sempre nelle nostre risorse qui di del nostro sito e cliccare su altri tipi di di siti tipo non so cg trader forse magari potremmo trovare un qualcosa ok anche qui la stessa cosa search possiamo mentre people diamo l'invio person 3d perfetto clicchiamo su free qui eccoli qua perfetto vedete che abbiamo dei modelli liberi quindi facciamo esempio che mi interessa questo lo clicchiamo perfetto e andiamo a fare un download del modello anche qui bisogna fare il bisogna entrare all'interno del sito però abbiamo la possibilità insomma di scaricare diversi modelli anche tipo gratuito che ci possono interessare idem per quanto riguarda ovviamente tipo gli alberi quindi c'è mettiamo tre albero eccolo qua sempre sono prodotti gratuiti andiamo a vedere gli alberi che possono essere gratuiti che si possono interessare eccoli qua vedete ecco abbiamo tipo questo tipo di modello di albero oppure quest'altro quello che ci piace di più possiamo andare a scaricarli e andare ad inserirle all'interno del nostro della nostra scena in questo caso va bene ho scaricato comunque quello che noi materiali poi li ho aggiunti io nel caso degli alberi di solito hanno i materiali loro e scaricandoli hanno già tutti i materiali assegnati eccetera eccetera ok spero di essere stato utile per giuseppe e ci vediamo in prossimi video danni hanno trovati e iscrivetevi mettete un bel like ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti